Cari amici di Radio Speranza, bentornati a Benedetta tra le righe. Allora, per questa nuova puntata io vorrei uscire un pochino dagli schemi, dalla mia zona di comfort che, come avrete intuito, è quella legata ai libri e all'editoria. E mi vorrei un po' affacciare ad una forma d'arte molto affascinante che però molto spesso noi non siamo abituati a guardare. Ovvero la sceneggiatura di un film. Quando solitamente guardiamo un bel film, siamo presi da quello che accade sullo schermo e di solito badiamo poco al duro lavoro che c'è dietro. Ad esempio, il lavoro di regia, il regista, è proprio colui che, diciamo come una specie di direttore d'orchestra, cerca di concertare una serie di elementi, di rendere armonici una serie di elementi come gli attori, le inquadrature, le musiche, insomma tutto il resto, tutto ciò che poi va a comporre quello che noi guardiamo sullo schermo. Ma dietro di lui c'è qualcuno, effettivamente, che ha trascritto sulla carta tutti quei movimenti che noi guardiamo in tv oppure al cinema. E si tratta proprio dello sceneggiatore. Tra l'altro, scrivere una sceneggiatura è abbastanza simile a scrivere un romanzo o un racconto, perché comunque in entrambi i casi bisogna creare, inventare una storia e suddividerla in scene, cercando anche di tenere sempre alta la concentrazione di chi fruisce di questo lavoro, ossia chi lo guarda oppure chi lo legge. Anzi, molto spesso, quando i film sono direttamente tratti da romanzi, lo sceneggiatore in un certo modo è anche facilitato nel suo compito, perché a lui toccherà, naturalmente oltre tutte le incombenze del caso, con cui una sceneggiatura è composta sia di testo scritto che dei movimenti delle macchine da presa, dei movimenti degli attori e dei dialoghi, soprattutto dei dialoghi. Però, ecco, nello sminuzzare, diciamo così, la trama di un romanzo, tutte le scene di un romanzo, per renderle adattabili allo schermo, sicuramente lo sceneggiatore si troverà facilitato partendo proprio dal romanzo, soprattutto perché le scene più salienti sono già state scritte e sistemate dei punti strategici. Perché parlo di punti strategici? Perché in realtà è molto importante, proprio per tenere alta l'attenzione di chi guarda, ma anche di chi legge, ovviamente, inserire gli eventi nel modo giusto e nel punto giusto. Ad esempio, ci aspettiamo sempre che accada qualcosa a sconvolgere le vite dei personaggi, soprattutto degli imprevisti, che magari facciano anche precipitare nell'incertezza i protagonisti, magari dei segreti svelati per caso, dei tradimenti che vengono a galla, insomma, anche in un certo senso dei colpi di sfortuna che rimettono tutto in discussione, rimescolano le carte. E, ecco, se così non fosse, le storie che leggiamo e guardiamo non ci interesserebbero, perché in realtà non ci interessa leggere o guardare un contenuto piatto che abbia un inizio felice, uno sviluppo felice e una conclusione felice. E, tra l'altro, di un lavoro del genere, ecco, un lavoro del genere sarebbe un flop su tutti i fronti, quindi nessuno scriverebbe una cosa del genere oppure la metterebbe, appunto, in pellicola. Per farvi capire un po' meglio come è semplice riconoscere la sceneggiatura di un film, io vi ho portato un esempio, un esempio tratto proprio dal mondo del cinema. Ecco, non ho voluto scegliere un film che, diciamo, ero sicura avreste visto, avreste visto, perché non tutti sono semplici da scandagliare. Ma ce n'è uno in particolare che, peraltro, è davvero molto molto bello e lo consiglio assolutamente, anche per un'altra serie di tematiche, per un'altra serie di motivi, che è Snow Pears, è un film del 2008, diretto e anche sceneggiato, anche sceneggiato in parte da Bong Joon-ho, un regista sudcoreano, e ecco, in questo film è proprio molto semplice individuare, ovviamente con un po' di attenzione, proprio la struttura portante della scenografia. Ma, prima di adentrarci, ecco, in questo esempio, svelare qualche retroscena, mandiamo una piccola pausa musicale. Per entrare un po' al... ecco, per portare un esempio pratico, vi avevo citato, appunto, prima della pausa, Snow Pearser, che, dicevo, è un film del 2008, diretto e anche in parte sceneggiato da Bong Joon-ho, e si tratta di un film distopico, quindi in realtà si svolge in un futuro che non è nemmeno troppo lontano, perché in realtà è ambientato nel 2038, quindi fra qualche anno, diciamo, e si tratta però di un film ambientato in un futuro, appunto, non troppo lontano, in cui la Terra sta vivendo una nuova era glaciale, quindi è interamente... le temperature sono sempre sotto lo zero in tutti i punti della Terra e gli unici esseri umani rimasti viaggiano all'interno di un treno che è sempre in movimento, quindi si muove sempre sulla Terra ed è sempre, sempre, sempre in movimento, il cui inventore è il capo della locomotiva, quindi la guida, vive anche in una condizione di venerazione da parte di questi esseri umani che abitano il convoglio, perché? Perché è convinto di aver trovato il modo per salvare una parte dell'umanità per tempi migliori. Ovviamente ecco, la premessa già è molto bella, anche perché andando a vedere proprio il film ci si accorgerà che su questo treno viaggiano persone di nazionalità diverse e lo stesso regista ha proprio spiegato che il suo intento era quello di creare una sorta di Arca di Noè, un treno su cui potessero viaggiare esemplari, diciamo così, di tutte le nazionalità in modo appunto di salvaguardare il più possibile la specie umana. Questo treno però ha una particolarità perché è diviso fra testa e coda ma anche in maniera sociale perché in coda sono stipati e questo è assolutamente il termine migliore per dirlo tutti i passeggeri di un'altra classe sociale ritenuta inferiore che vivono con una serie di restrizioni sul cibo, sull'acqua mentre verso la testa ci sono dei passeggeri che vivono in condizioni più agiate, molto migliori, appunto hanno cibo migliore, scorte maggiori d'acqua e anche una cosa particolare che insomma nel 2038 su questo treno è particolare, ovvero la scuola perché i bambini di coda che come tutti gli altri passeggeri sono destinati ad immolarsi per il treno, per il bene del treno e quindi vengono cresciuti per poi lavorare, per prestare servizio, i bambini di testa invece vengono istruiti, istruiti ovviamente alla maniera di questa classe sociale particolare dove il punto centrale è appunto la venerazione di questo soggetto che è Wilford ed è appunto l'inventore di questa locomotiva. Però l'incidente scatenante che è proprio l'evento che muove tutto il film si concentra sul rapimento da parte di dei superiori di alcuni superiori di alcuni supervisori ecco diciamo così del treno di bambini dei bambini della coda del reparto del reparto di coda che vengono appunto prelevati per andare a lavorare in testa ma in realtà come si scoprirà verso la fine le intenzioni di questi di questi supervisori che le intenzioni di Wilford sono ben più raccapriccianti di così però ecco io non voglio fare non voglio fare troppi spoiler come sempre perché vi consiglio davvero di andare a guardare questo film appunto quindi l'incidente scatenante che muove una qualsiasi storia in questo caso è appunto il prelievo di questi bambini e questo incidente metterà in atto una reazione a catena la cui prima mossa il primo tassello del domino a cadere è la ribellione la ribellione dei passeggeri di coda questi questi questo ecco c'è un piccolo gruppo di passeggeri di coda di coda capitanati da Curtis il protagonista di tutto il film ecco che decidono di andare a cercare questi bambini per riportarli dalle loro madri il viaggio attraverso tutta la locomotiva però è abbastanza difficile ed insidioso perché ogni volta che una porta fra una carrozza e l'altra viene aperta viene aperta tra l'altro tramite il disinnesco di una serie di cavi insomma c'è anche tutta una parte molto tecnica di cui si occupa ecco anche uno di questi di questi personaggi del gruppo dei ribelli dietro ogni porta i protagonisti sanno che si nasconde un pericolo questo pericolo può essere interpretato da un nemico quindi dalle guardie oppure ecco che sono in agguato anche perché questo è un film anche abbastanza pieno di combattimenti oppure da un'importante rivelazione che va proprio a caricare il gruppo dei ribelli a caricare in maniera negativa sono ancora più agitati ancora più convinti di voler raggiungere la testa e recuperare i loro bambini però se farete caso a tutte queste rivelazioni noterete anche che ogni scena si chiuderà con la connotazione opposta all'apertura per esempio se abbiamo un inizio di scena positivo la fine la scena si concluderà con un finale negativo dove magari appunto la battaglia del momento è stata persa oppure qualcuno dei componenti del gruppo ci ha rimesso la vita beh sicuramente questo è un film che mostra davvero una maestria incredibile da parte dell'attività proprio dello sceneggiatore fino ad arrivare tra l'altro ad un colpo di scena che ora senza raccontarvi troppi dettagli si capirà che questa rivolta in realtà è stata indotta perché sul treno ci sono troppi passeggeri e quindi bisogna liberarsi di qualcuno ecco spero in qualche modo di avervi aiutato di avervi stimolato un occhio critico così quando vi troverete davanti ad un film di queste dimensioni di questa portata anche voi riuscirete un pochino a intravedere la struttura portante la trama tutto quello che è nascosto dietro le immagini che guardiamo e vi ringrazio per aver seguito questa puntata di Benedetta tra le righe vi do appuntamento alla prossima fra 15 giorni sempre qui su Radio Speranza e sempre Benedetta tra le righe ciao